Ma se tu introduci una moneta unica in un sistema di più nazioni, le nazioni reagiscono male, le economie scricchiolano, però prima o poi da sole in qualche misura si aggiustano a livello di sincronia dei cicli, a livello di mercati che diventano più flessibili, altrimenti scompaiono e così via. Questo si è rivelato essere purtroppo un grave errore ed è un errore che ha lasciato i suoi segni in tutti i paesi. Perché dico questo? Non perché voglio nascondermi e dire che l'Italia non ha dei problemi, ma perché il problema dell'aggiustamento strutturale è un problema che tutti i paesi membri della zona euro hanno, compresa la Germania. Nelle mie funzioni precedenti, quando visitavo la Germania e parlavo con i membri del governo e dell'amministrazione di quel paese, con la mia vecchia funzione facevo notare che anche un paese forte o più forte degli altri come la Germania avesse dei problemi strutturali. E lo ripeto qui non perché voglio nascondere i problemi gravissimi del nostro paese, ma per dire che in Europa è maturo un ragionamento vero e non finto sui problemi della crescita.